E' con noi, in diretta dalla Turchia, Raffaella Masciatri. Ci sei Raffaella? Ciao, buonasera a tutti. Sì, eccomi qua. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera a te. Buonasera. E grazie per la tua disponibilità. Un grazie enorme. Ah, guarda, è solo che un piacere. Mi spiace un po' per gli orari, spero non sia troppo tardi. No, 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 non ti preoccupare. In Turchia, dove siamo arrivati da poco. Come dicevamo prima ai nostri radioascoltatori. Anche telespettatori, sai che noi potremmo fare la web diretta. Noi ti abbiamo preso proprio alla fine dell'allenamento, perché domani c'è una partita molto importante, che è praticamente la partita che è tra voi la terza finalet consecutiva di Eurolega, contro il Kaiseri-Kaski-Spor, giusto? Sì, esatto. Domani giochiamo gara 1 di questi quarti di finale. Purtroppo abbiamo il fattore campo a sfavore, perché giochiamo prima fuori casa e poi venerdì prossimo a Schio. Sarà una partita dura, difficile, però insomma noi siamo pronti, ci siamo preparati da quattro giorni, quindi siamo solo aspettando la partita e abbiamo una gran voglia di giocare e di vincere. Che tra l'altro è una formazione che già conoscete, in quanto avete sfidato già nella regular season ed avete vinto in casa, purtroppo però perdendo in Turchia. Quindi che partita vi aspettate domani? Conoscete già i loro punti deboli? Sapete come affrontarle? Com'è il morale lì? Sì, diciamo che fortunatamente abbiamo incontrato una squadra che appunto già abbiamo giocato due partite contro nel girone di qualificazione, quindi ne conosciamo, sono una squadra che nel quintetto iniziale è molto atletica, corrono tante in contropiede, quindi bisognerà cercare di attaccare noi in maniera quadrata, diciamo senza fare troppi tiri affrettati per non concedere così all'Europa la possibilità di giocare veloci in contropiede. Ripeto, sì abbiamo fatto naturalmente degli aggiustamenti, chiamiamoli aggiustamenti tecnici, su alcuni loro giochi, però alla fine quello che conterà sarà la voglia di vincere e l'aggressività mentale soprattutto che ci dovremmo mettere per tutti i 40 minuti della partita. Tornando invece in Italia, diciamo il campione italiano, che ovviamente state giocando da protagoniste, come è andata finora e quali sono secondo te le avversarie che possono mettersi tra voi e lo scudetto? Guarda, diciamo che è stato comunque un campionato equilibrato, perché alla fine in Italia nessuna partita è scontata dall'inizio, poi è logico nel momento in cui si entra in campo aggressive e lo si rimane per 40 minuti, dopo è logico ci sono partite in cui si può vincere di 20 e di più punti, però diciamo che il giorno di ritorno ci ha segnalato che una squadra possibile rivale può essere Ragusa, perché comunque nonostante sia nonno promossa ha fatto una campagna acquisti molto buona, ha un quintetto iniziale molto atletico e forte tecnicamente, fatto naturalmente anche da giocatrici italiani che fanno parte nazionale come Giulia Gatti. E poi non dimentichiamo comunque che c'è sempre Luca, che è la squadra di sempre, purtroppo è stata un po' colpita da infortuni in questa stagione, però comunque sono sempre lì agguerrite. L'altra rivale di sicuro può essere un vertide, perché ha fatto un grande girone di ritorno vincendo quasi tutte le partite, perciò sono una squadra giovane, ma con tanto talento e con tanta voglia di far vedere che le giovani italiane ci sono e che vogliono giustamente prendere il loro posto. Raffaella, le domande sono davvero tante e parto con quella più scontata e doverosa. Che effetto fa il basket americano visto da vicino? Qual è la differenza tra NBA e WNBA? Perché avendo vissuto tu a Los Angeles puoi anche fare questo confronto tra il basket maschile americano e il basket femminile americano e soprattutto che differenza c'è tra il basket femminile, quello americano, e quello italiano? Ma guarda, la differenza credo sia più che altro a livello atletico. In America si usa molto di più lavorare con i pesi, lavorare in sala pesi, quindi lavorare sul fisico per avere una massa muscolare più grossa delle avversarie. Però poi diciamo che dal punto di vista tecnico, bene o male, il gioco è lo stesso, si gioca sempre 5 contro 5. Il discorso lì è da farlo più ampio nel senso che a livello proprio di gestione della squadra, di gestione del campionato, di organizzazione della società stessa, è proprio tutto un altro livello. Perché comunque già lì lo sport, o comunque tutti gli sport, sono considerati a livello veramente nazionale, sono seguiti da media e comunque da tutte le persone in America. Solo se pensiamo, per esempio, che le strutture che hanno nei collegi o anche nelle high school, cioè noi palazzetti, come ho visto io, anche se dove andiamo a fare allenamento, da noi non esistono. Ecco, quindi proprio mancano le strutture di base da noi e la concezione basilare dello sport. Tutto qua. La cultura dello sport è diversa. Poco prima di chiamarti parlavamo appunto di questo, diciamo, confronto tra il basket nostrano e quello negli USA, visto che io sono appena tornato da un viaggio negli States e sono stato a Boston a vedere i Celtics. Diciamo, anche la differenza che notavamo noi è anche quella come coinvolgimento del pubblico nelle partite, come, diciamo, occasione per stare insieme più viva, più visibile negli States, un po' meno... Si va oltre la partita. Esatto, esatto. Si va oltre la partita, un po' meno qui... Sì, è uno spettacolo, ecco. Esatto, un po' meno qui da noi. Prego, scusami, Raffaella. No, no, diciamo appunto sì che la partita quasi è un di più, ecco, rispetto a tutto quello che poi si può trovare nei palazzetti. Esatto, siccome noi diciamo che ci proponiamo anche un po' come promotori del basket, avendo la possibilità di fare radio e di parlare del nostro sport preferito, l'idea di attirare dei giovani, di avere la possibilità di promuovere il nostro sport al di là di quella che è la concezione qui in Italia, prettamente calcistica, potrebbe essere sviluppata facendo delle proposte magari ai nostri, ai dirigenti delle nostre squadre migliori, di tentare di prendere quella via. Non dico proprio di creare uno show stile America, perché magari... Mi hai rubato la domanda, perché ne avevo una simile, ovvero cosa si può fare per far crescere il movimento cestistico in Italia? Ma sia come, diciamo, a livello di giocatori, a livello di interesse, ma anche a livello di pubblico e di conseguenza, no? Di coinvolgere i giovani ad iniziare a praticare questo sport. Per esempio, se non sbaglio, è iniziata una campagna che coinvolge la RAI, ovvero più basket in TV, più basket nella RAI. Infatti sì, io vi stavo rispondendo che il canale principale dovrebbe essere la televisione di diffusione del nostro movimento, però purtroppo ancora la RAI è quella che dovrebbe essere il canale maggiore per diffusione. So che non è facile, che naturalmente sia le società, le federazioni, la nostra federazione, la Lega, insomma, non dovrebbe fare comunque sforzi per farci che questo succeda. Però io vi posso portare l'esempio della nostra squadra, della Famila Basket, come per esempio, vabbè, anche di altre piccole realtà, dove sì, siamo conosciute, e quindi la gente viene al palazzetto, ne viene tanta, vengono 2.500 persone a partita. Però al di fuori di questo c'è veramente poco, quindi ci vuole proprio una conoscenza a livello nazionale e solo la televisione o comunque anche i giornali, la Senza Grazie per lo Sport, sì, dovrebbe pubblicizzarsi di più. Raffaella, no, 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 finisci, finisci. Dicevo che dal nostro punto di vista delle giocatrici, noi l'unico modo che abbiamo per farci vedere è la vetrina della nazionale, quindi cercare di avere logicamente più successi da quel punto di vista in modo che ci si possa far vedere maggiormente a livello nazionale, perché se pensiamo anche a quello che è stato il successo della pallavolo, sia maschile che femminile, è parte del tutto della nazionale. vincendo mondiali, l'Olimpiadi, da lì si ha una visibilità maggiore e da lì poi dopo di sicuro porta anche contributo alle varie singole società del campionato. Ecco, a proposito di nazionale, angolo a Marcord, è più una curiosità che una domanda. Come descriveresti il primo momento in cui hai messo piede sul parquet da giocatrice professionista, quindi che ricordo hai di questo momento? E poi la seconda curiosità è qual è il ricordo più bello legato alle partite in nazionale? Beh, il primo momento in cui la prima sensazione che ho avuto nel momento in cui ho iniziato a giocare da professionista è un misto tra emozione e paura, perché alla fine comunque dovevo misurarmi con giocatrici di alto livello con cui avevo già la fortuna di trenarmi perché avendo iniziato a Como, diciamo, la mia carriera professionistica mi confrontavo ogni giorno con gente come Fulini, Ballabio, Pollini, quindi gente parecchio separata. Quindi diciamo un misto di emozione e paura. Però diciamo che è svanile pian piano perché, anzi, abbastanza velocemente, perché poi una volta che si è in campo basta, dopo si pensa a giocare e tutto passa. E invece con la nazionale? Il momento ce ne sono tanti. Credo la partecipazione agli europei, perché quello comunque è una vetrina enorme, e quindi anche di confrontarsi comunque con nazionali e con giocatrici che sono di alto livello credo che sia una delle esperienze maggiori. L'unico ramare è che purtroppo non ho mai visto una medaglia a livello europeo, però insomma noi ci proviamo sempre. Mai dire mai, no? Ancora c'è tempo. Mai dire mai! Esatto, esatto. Esatto, esatto. Chiudo io con due domande. La prima è proprio una curiosità. Volevo sapere qual è la giocatrice più forte, secondo te, che hai visto in campo, quindi con cui hai giocato insieme o contro. La seconda è se, sulla questione wild card per la nazionale maschile... Le famose wild card! Esatto, se ti sei fatta un'idea su quello che è successo, su cosa ne pensi del fatto che sia stata premiata magari una nazionale che ha meno storia di noi... Però che coinvolge il pubblico! Esatto, che però, tornando al discorso di prima, coinvolge di più appunto il pubblico. Ma guarda, rispondo subito a quest'ultima domanda, perché non ho seguito moltissimo il discorso della wild card. Parto dal presupposto che credo che per acquisire, per avere un posto ai mondiali o con qualsiasi altra vetrina internazionale non è per niente bello mettere all'asta questo posto che rimane. Io preferisco comunque giocarsela e conquistarsela sul campo, ecco, perché alla fine poi dopo ci si ritrova sempre a parlare di soldi e di controlle cose tramite i soldi. È logico, dispiace, perché comunque l'Italia maschile, come credo che anche noi e agli scorsi europei, che abbiamo fatto praticamente lo stesso cammino, sarebbero meritati la partecipazione ai mondiali. Non è andata così e niente, vorrei dire che ci guadagneremo un altro posto come abbiamo sempre fatto sul campo, ripeto, che è poi la cosa più bella e la soddisfazione più grande. Per quanto riguarda la prima domanda, ce ne sarebbero tante. Diciamo che la giocatrice più forte con cui ho giocato anche in Italia, credo che sia Penny Taylor. Ho avuto la fortuna di averci giocato insieme negli anni migliori che io e veramente l'ho visto fare delle cose incredibili. In America al tempo è stata Lisa Leslie, che è comunque il monumento del basket americano che poi ha giocato in questi ultimi anni, però è stato assistito anche da Candy Sparker. Ho tutte e tre delle persone, oltre che delle giocatrici professioniste, professionali, anche delle persone molto… guarda, non riesco a trovare un aggettivo, ma fantastiche. ne è visto che tutte e tre mi hanno messo a mio agio e mi hanno aiutato, comunque si sono messi a disposizione anche per farmi migliorare, diciamo, sia come persona ma anche come giocatrice. Guarda, un po' ci speravo che mi nominavi la Parker perché è la mia giocatrice preferita, quindi… Ed è sposata con Sheldon Williams. Esatto, è la sorella di Anthony. Esatto, in questi ultimi anni credo sia lei la giocatrice più forte che è in circolazione. Sheldon Williams o Sheldon? Sheldon. Sheldon, Sheldon. Ci tenevo ad avere anche una conferma da te, insomma, che non mi sbagliavo con il mio pensiero su di lei. Raffaella, un'ultima domanda stupidissima. Visto che stiamo parlando di grandi giocatrici, parlo di un grande giocatore e visto che tu sei stata a Los Angeles, la domanda è quasi spontanea. Hai avuto la possibilità di conoscere o incontrare Kobe Bryant? Sì, l'ho incontrato perché fortunatamente ci allenavamo nella stessa palestra e quindi soprattutto i primi due anni quando io sono arrivata era ancora a maggio ma loro stavano giocando alle finali NBA quindi ho avuto la fortuna di incontrarlo, di salutarlo anche perché appunto lui comunque parla correttamente l'italiano. Sì, sì, parla l'italiano meglio di me Giancleto, sicuro. Sì, 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 beh, ma anche meglio di me. E poi dopo ho avuto anche la fortuna nel mio secondo anno di essere allenata da Dupo Papa perché era il secondo assistente e il primo allenatore avevano mandato via quindi era diventato lui il capo allenatore perciò ho avuto anche questa fortuna. Perfetto. Raffaella, noi ti ringraziamo tantissimo. Grazie mille per la disponibilità e ovviamente domani tutti a fare il tifo per Schio. Ovviamente, ovviamente. Questa partita è importantissima. È stato bellissimo averti qui con noi. Il nostro augurio è che magari in futuro possiamo ridisturbarti nuovamente. Grazie ancora. Vabbè, guarda che se domani la partita va bene, è venerdì e dopo è vero il tifo. Ok. Ormai dopo non mi potete più allontanare da me. Ci mancherebbe. Ciao. Speriamo che porti bene. E in bocca al lupo quindi. Grazie a voi, buona continuazione. Grazie. Grazie mille. Ciao, ciao, ciao.